Una storia di 2000 anni, ovviamente ci sono sensibilità diverse, società diverse che influenzano in maniera differente appunto da queste attenzioni, quindi anche troppo incorrotto la santità, forse in un passato non era così. Io comunque ringrazio ancora Arnaldo per questo bellissimo libro, leggero, ma non leggero che si legge velocemente, ma intenso, io sto scherzando con lui, dicevo che in parte ti fa perdere la fede ridendo, però ti fa anche riflettere su come... Quando mi hai detto così, più che sentito il colpo, sono proprio impressionante, perché poi... Dopo quegli anni dici, forse la chiesa deve ricominciare a leggere... Per me, che sono credente, scrivere questo libro mi ha fatto anche male, perché è stato un viaggio attraverso tematiche che mi hanno interrogato, ovviamente, però ne sono uscito più preparato, nel senso che poi studiando meglio cosa dicono le scritture, eccetera, eccetera, Sicuramente mi ha aiutato a crescere, però certo, è un libro che mette in discussione anche queste certe... E' giusto così, dà molti spunti di riflessione, di interrogazione personale, quindi vi invito a... Faccio un pensiero sopra, quindi in fondo troverete delle cote e a disposizione per filmarle. Grazie ancora a Fernando e a tutti voi presentati. Grazie. 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 Grazie.